Turiamoci il naso e votiamo DC. Era il 1976, il 20 giugno, quando il Paese fu chiamato alle elezioni politiche. Era la prima volta dei diciottenni alle urne e il Paese era chiamato a scegliere tra l'avanzata del Partito Comunista e la vecchia democrazia cristiana. La frase, originariamente di Gaetano Salvemini, fu ripresa da Indro Montanelli e indirizzata agli elettori del Movimento Sociale Italiano e del Partito Liberale per evitare che l'avanzata comunista diventasse un potere. Quella frase, forse inconsciamente e senza saperne magari la genesi, sarà rimbombata nella mente di tanti presidenti di squadre di calcio ieri a Roma quando hanno dovuto scegliere il nuovo presidente federale. Turiamoci il naso e votiamo Tavecchio. Ecco, questo avranno pensato in molti di quel 63,63% con il quale il fino a ieri re della potentissima Lega Nazionale di Dilettanti hanno incoronato presidente assoluto del diciamolo pure mal ridotto calcio italiano. Non inganni il fatto che Tavecchio fosse il presidente del mondo dei dilettanti e non dei professionisti. La federazione abbraccia tutto il mondo calcistico e dunque le elezioni, come è noto, vengono fatte per teste e non per classi in pieno regime post rivoluzione francese. È chiaro che poi quando si annusa che c'è chi può vincere facile, allora ci si sbriga a salire sul carro del vincitore possibile al più presto, prima che sia troppo tardi e non c'è frase infelice su bananio tipo ba che tenga. Carlo Tavecchio doveva essere presidente federale e tale è stato. È vero, la carica è più politica che sportiva e Tavecchio è un vecchio politico di lungo corso che magari ha già promesso a chi promettere e ha già dato a chi doveva dare. Il calcio si sa impermeabile alle innovazioni. Prendiamo la Lega Pro, una volta Serie C. Da un ventennio è governata da una stessa persona, il ragionier Mario Macalli, che ha fatto il bello e cattivo tempo, ha fatto e disfatto, creato e distrutto, criticato e odiato, ma è sempre lì, al suo posto. E alle società va bene così. L'importante per il calcio italiano è che ci siano le televisioni da spremere per far camminare la locomotiva. Fino a quando reggerà? Sarà capace Tavecchio di far sentire la sua voce a Blatter e Platini? Sarà capace di restituire credibilità al calcio italiano? Forse era il caso di voltare pagina, aprire le finestre e ridare aria nuova allo sport nazionale. Si è preferito, come detto all'inizio, turarsi il naso e non sentire la puzza di stantio dentro le stanze, votando nome e nominem Tavecchio.